Si è sfiorata la strage ieri nel quartiere Praia, verso le 19 in via Monti un marocchino sessantenne è stato vittima di un agguato, gli hanno sparato ad un piede ed un altro proiettile ha mandato in frantumi il vetro di una Fiat Panda con una mamma ed un bimbo a bordo, secondo le prime indagini il marocchino sarebbe stato avvicinato da una motocicletta con due persone a bordo, il passeggero avrebbe estratto la pistola e sparato due colpi calibro 22, uno al piede l'altro contro la Panda, sarebbe stato un giovane passante straneo alla vicenda ad aver chiamato il 113 che ha poi provveduto a far intervenire un'autoambulanza, il marocchino guarirà in una decina di giorni ma nel quartiere ora torna alla paura come nei tempi bui perché questo è il secondo attentato in 20 giorni, due episodi inquietanti e soprattutto senza un apparente movente, l'8 maggio Giuseppe Scicchitano, 45 anni di origini calabresi, nella stessa via è stato ferito da un proiettile calibro 7,65 ad una gamba per essere intervenuto per sedare una lite fra un uomo ed una donna mai identificati, nelle indagini di questi giorni nel quartiere è stato arrestato un giovane perché aveva nel suo alloggio una pistola calibro 9 risultata smarrita da un'ex guardia giurata durante un trasloco, vedremo gli sviluppi, di sicuro c'è poco da stare tranquilli. Ed ora vediamo le immagini di questa mattina del nubifragio con grandinata qui ad Asti, ha provocato parecchi disagi per diversi minuti verso le 11, un forte vento ha battuto alcuni alberi, poi la grandine ha presto intasato i tombini e quindi provocato allagamenti un po' ovunque, molte fognature intasate, vetrate in frante per il vento e la grandine. In provincia fortunatamente è andata un po' meglio e le colture agricole sono state risparmiate dalla grandinata. E domani e domenica a Montemagno si tiene la manifestazione pane al pane, fa parte del circuito ritorno alla fiera organizzato dal Galmonferrato Astigiano e come ogni anno vedrà sicuramente una folta partecipazione di pubblico per le peculiarità architettoniche del paese e per l'elogio del pane Monferrino, ma vediamo nel dettaglio cosa si può trovare a Montemagno. Programma molto denso, incomincia domani pomeriggio con l'inaugurazione della mostra del maestro Surbone, arte contemporanea, poi inauguriamo i locali di accesso a quello che fu il cimitero pre-napoleonico sotto la scalinata della chiesa e poi apriamo le danze nel senso che si potranno degustare tutti i nostri piatti tipici che richiamano il pane nelle soste gastronomiche dalle 19. Alle 22, concluse le libagioni, si può assistere allo spettacolo delle voci di corridoio, questo gruppo molto interessante torinese che fa vecchie canzoni, un po' alla moda del quartetto Cetra e con un po' di swing. Il giorno dopo si apre il mercatino del pane con le nostre grissi e i nostri assaggi. Per i bimbi abbiamo un'interessante possibilità che è quella di fare un giro del paese a dorso di mulo, anzi d'asino e chi vuole può anche fare un giro del paese con le visite guidate delle nostre guide. E anche per oggi qui dalla redazione di Asti è tutto, grazie per l'attenzione e restituiamo la linea allo studio.